...corso, crei una sorprendente rielaborazione, colorata di venature rock, come è il tuo stile, di Fortissimo, un brano portato al successo a fine degli anni Sessanta da Rita Pavone. Brano che, tra l'altro, è diventato comunque uno dei simboli musicali di quel decennio. Una reazione molto del mio preferito, qui capisci che veramente la musica non ha età quando si parla di un velo Diego, per questo punto di venire il pallone e anche il testo, insomma, fantastico. Io ho voluto farla mia, perché anche la canzone che cantava mia mamma, la del piccino e il culo, no? Non è di culo, di così darmi, di così darmi, di così darmi, di così darmi. Esatto, quindi... E noi, perché fortissimo? Fortissimo, perché è come far abbattere il cuore, Laura, questa sera, quando ascolterete questa canzone. Quindi, un forte applauso per Laura Balcon, fortissimo! Laura Lacoro! Io non so, te lo pico, io non so, queste dimostrano sotto luce. Io non so, te lo pico, io non so, queste dimostrano sotto luce, io non so, queste dimostrano sotto luce, io non so, queste dimostrano sotto luce. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!